Silenzio, silenzio, ora, ora questo signore qui, bambino, dove vai? Perché porti via la sedia? Questo è speciale, questo signore qui, adesso deve sedere qui, signore, sediti, please, I need a palloncino, mi serve un palloncino, mi serve un palloncino, un palloncino, come si torna, e non si chiudono, io non penso a qui, io non penso a qui, io penso a qui, io penso a qui, io penso a qui, io penso a qui, mamma mia, questo palloncino, c'è da scopriarlo, come scopriarlo, c'è da scopriarlo questo palloncino, allora signori, mettilo qua, sono corso, nella città mia, c'è da Lugamaldi, si chiama sul lucoso, mettilo qua, ancora più su, ecco, signora, devi scopriarlo questo palloncino, quando siete, capito? Sì, siete, devi scopriarlo, però attenzione, c'è una cosa sotto, è ochio, aspetta, dite, musica, 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 light, 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 Sì, 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 sì. con sempre un pubblico la penuta sullevitare 20 euro quindi sei obbligato fico obbligata a venire dice l'ex musica please un altro palloncino un altro palloncino please signore siete i signori no signori ma che signora la puoi scoppiare lo d'uso? non fai male palloncino su palloncino sullo corso palloncino sullo corso c'era scoppiato no no c'era scoppiato con il sedere è buona signora ho sull'alina ma è la sull'alina scusa c'era scoppiato coppa le mani occhio occhio leva le scappe se ti dà un fastidio leva le scappe se ti dà un fastidio leva le scappe se no la scoppiata ma su 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 palloncino su su palloncino è buona su no è buona su palloncino tiene a scoppiarlo applausi applausi popolo applausi grazie come sta? come sta? bene? meno male meno male che sta bene non c'è tempo va bene non c'è tempo numero 3 numero 3 numero 3 numero 3 numero 3 ecco scegli una donna bianca, nera, marone scegli una donna tutti scegli i occhi letri non più umano gli occhi letri tutti scegli guardatevi 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 tutti devi scegliere una donna ehi, ehi come la 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 adesso il devo dare il microfono mi dirà 4 cose che piacchè per questa ragazza 4 things that relax e rischia 4 cose che piacchè tanto su che la facce che che si 4 things that can protect you to this young lady 4 things 4 4 non ti fa no vadoza be come la via, via, via shh 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 via cen la stator .. 3 oss e 4 se la sve signorina è che c'ha un bel sedere, nella lingua mia si chiama Ubu, due, che cammina come Jennifer la terza, la terza perché è bellissima, applausi anche per lei, perché ha detto che è bellissima, la quarta, la quarta non va fuori, perché c'ha un bel fisico, applausi per loro, grazie, grazie a voi, grazie, qui non va fuori, non va fuori, numero 4, chi c'ha? Un uomo, un uomo, bianco, nero, blu